Musica Liberi.tv Riccardo Cristiano Oggi qui a Pizzo, Calabro, in Calabria, per la costituzione di un'associazione radicale che porta il nome di Eleonora Cretella in mia compagnia la sorella Antonietta Caparrotti, che io conosco perché, devo dire, non l'ho detto prima nel mio intervento, ma conosco perché lei è parte della storia dei radicali, lei era sempre ed è sempre presente ai congressi e lei è stata il motore che ha deciso di dar nuova vita alle iniziative radicali in Calabria. Vogliamo chiederle appunto la motivazione di questa scelta e soprattutto un piccolo ricordo della personalità di Eleonora. L'idea mi è venuta quest'anno, verso il gennaio, perché ho pensato che la Calabria, per chi non la conosce naturalmente, sembra un'isola, io dico sempre queste parole, un'isola deserta nel Pacifico, sperduta, mentre, non so, la Sicilia è sempre più vicina della Calabria, per chi non la conosce. Per cui ho pensato, mi date l'elenco di tutti quelli, sono andata al partito, mi sono fatta dare l'elenco di tutti quelli che negli anni hanno partecipato o sono stati iscritti e ho cominciato a telefonare. Devo dire, in generale, tolto uno che mi ha detto, io sto con Turco, quindi non mi telefonare, ma io ho detto, Turco, ci sto pure io, comunque va bene, e ho cominciato a telefonare a tutti e devo dire, c'è stata una risposta generale, tant'è vero che oggi ne mancano alcuni, però sono interessati, per cui uno magari aveva un congresso, uno sta in ospedale perché è soperata di tonsille, insomma, ci sono quelli che hanno avuto degli impegni. Però, sinceramente, io credo che bisognava riunire queste persone e mi pare che oggi la risposta c'è stata. Sono contentissima e felicissima perché, più che altro, a prescindere che forse non saremo cento, però siamo delle persone, ho visto, cioè siete qui in Calabria delle persone, ovviamente molto capaci, questo è scontato, ma radicali, cioè che vogliono portare avanti l'idea radicale. Il ricordo di mia sorella, e beh, quello è un po' difficile perché, sai, sono sorella, quindi lei mi ha portato nel partito, lei mi ha fatto conoscere, perché lei era la vera radicale di famiglia, negli anni del divorzio, e dopodiché poi mi sono iscritta e non ho abbandonato più i radicali, perché io, d'altre politiche, non l'ho mai sopportata, perché per me, io credo che quasi quasi ci si nasce radicale, più che diventarlo, però io in effetti ho trovato nel radicale. Poi quello che mi ha insegnato Marco Pannella, penso che tutti noi, chi l'ha conosciuto, il sapere dialogare, il sapere analizzare, e quindi siamo andati avanti in questo senso. Mia sorella, beh, era mia sorella, quindi non posso aggiungere molto. Però abbiamo avuto la possibilità, ringraziando Radio Radicale, di ascoltare 15 minuti di un suo intervento dell'85, parliamo dell'85, siamo nel 2017, attualissimo. Io consiglio di riascoltarlo, sicuramente lo riusciranno a riascoltare anche perché questa giornata è stata registrata da Radio Radicale, oltre che da Liberi TV, perché erano tutti argomenti e sono attuali. Si è parlato di migranti, si è parlato di politica, si è parlata di antiproibisionismo, si è parlato di laicità, si è parlato di diritto. Quindi Eleonora, nell'85, ci ha ricordato, nel 2017, quello che c'è ancora da fare. È sicuramente così, perché d'altra parte purtroppo in Italia è difficile cambiare e far cambiare, perché come sapete, come vedete, i nostri cervelli che gestiscono, secondo me, fra l'altro, più sta e più mancano i cervelli, lasciamo perdere il partito di destra, di sinistra, eccetera. Ma è gente che si va a mettere in politica e non sa, onestamente, quindi se non ci fosse questa speranza radicale, dico io, ecco perché penso che bisogna spingere, far di tutto, che tutto quello che succede in Calabria succede nelle Marche, si faccia l'associazione nell'Abruzzo, si faccia, non perché non ci sono l'associazione, ma con lo spirito di unione, perché la gente che si vuole separare o dice io litico con quello, no, sono cretinate, i pennacchi radicali non ce l'hanno, non bisogna averceli, bisogna lavorare e cercare di portare avanti le idee radicali, che poi sono quelle di Marco Pannella e di Bonino, questo è un altro discorso, però sono idee radicali. Sono d'accordo, e poi comunque io vorrei concludere proprio con delle parole dette proprio da Eleonora, che sono quelle simpaticamente dette proprio nell'audio, bollete fare qualcosa, state criticando, fatela. E infatti anche io dico questo, e comunque lo spirito, almeno io quando ho cominciato a fare le telefonate, ho pensato, dico qui se ci si riunisce bisogna, se ci si riunisce, bisogna trovare i punti di riferimento regionali, cioè c'è quello che sta lì, senza fare i nomi dei paesi, perché ora sembra che faccio simpatia o antipatia, però bisogna trovare dei punti di riferimento in modo che poi ognuno porta quel seme radicale e che un po' si sviluppa, come è stato per esempio a Catanzaro in questo periodo con l'elezione ultima. Io ringrazio Antonietta Caverrotti, augurandole soprattutto di ritornare qua molto presto, anche perché questo seme oggi è stato piantato, ne pianteremo probabilmente degli altri, anche perché molti hanno dato la disponibilità a radicarsi sul territorio, così è stato detto. Grazie ancora davvero della presenza. Grazie a te, grazie tanto a voi, veramente di tutto, veramente vi ringrazio infinitamente, con il cuore e con l'anima, se l'anima c'è, va bene? Grazie. Grazie a te, grazie.